La famosa Maratona di New York 2020, il più grande del mondo, uno dei spettacoli annuali più importanti del mondo, azzordatire, ma soprattutto degli stati d'America, pensate che è stata annullata. Per le preoccupazioni relative alla diffusione del Covid-19 del coronavirus, è arrivato l'annuncio ufficiale da parte degli organizzatori doveva svolgersi come sempre nel primo fine settimana di novembre. Nonostante il caldo dei tassi di infezione nella zona di New York, i funzionari e gli organizzatori della città hanno optato di evitare che si possano correre dei rischi per quanto riguarda la salute umana e hanno quindi deciso di cui un accordo di andare ad annullare la Maratona di New York 2020. Una scelta importante, probabilmente una scelta azzardata, ma una scelta che viene compiuta per il bene degli esseri umani. Quindi queste le conferme arrivate in maniera abbastanza diretta. Detto ciò, vi ringrazio, vi ringrazio infinitamente per la visione, per l'ascolto di questo video di oggi. Iscrivetevi cari utenti di YouTube, commentate. Un cordialissimo salutone a voi, da Leandro, un narratore italiano di YouTube Italia.